Siamo con la dottoressa Vecchiato che rappresenta l'ufficio dei itinerari educativi del Comune di Venezia. Può spiegarci come è nata l'iniziativa della consulta dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze? Allora, questo progetto è nato lo scorso anno scolastico e sta prendendo piede, diciamo, in modo operativo e concreto in quest'anno scolastico. Praticamente abbiamo appena iniziato con una prima riunione iniziale di presentazione con gli insegnanti e con le scuole che hanno aderito a questo progetto. Noi cerchiamo di, abbiamo coinvolto le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado e chiediamo agli insegnanti che hanno aderito, alle scuole che hanno aderito, di darci due rappresentanti per plesso scolastico. Chiediamo possibilmente, ma questa non è una condizione sine qua non, che siano possibilmente una bambina e un bambino, un ragazzo e una ragazza e altri due ragazzi, bambini eletti, di supporto come supplenti. Questi rappresentanti dovrebbero confluire in questa consulta che dovrebbe lavorare in un progetto per rendere la città, in questo caso Venezia, la terraferma e tutte le scuole che hanno in qualche modo aderito, un progetto che possa essere rappresentante di, possa rappresentare una, come possiamo dire, un avanzamento della città sui temi della sostenibilità e sui temi della sostenibilità legata ai bambini. Quindi in qualche modo ci rialgacciamo ai contenuti dei progetti della città dei bambini e delle bambine. C'è già una somma di denaro, diciamo, stanziata per questo, che non è tantissimo, però dovrebbe avere innanzitutto, dovrebbe darci la garanzia che quello che i bambini progettano, qualsiasi cosa sia, possa in qualche modo, può venire realizzata perché c'è già questa cifra stanziata. Questo da una parte. Dall'altra parte, però, dovremmo anche riuscire a lavorare entro a certe condizioni economiche, perché naturalmente la cifra non è limitata, visti i tempi, è limitata. Quindi questa cosa dovrebbe dare concretezza e creare dei paletti, insomma, attorno ai quali poter lavorare. Nel senso che potrebbe anche essere che i bambini messi al lavoro su queste cose chiedano qualsiasi cosa. In realtà non è questo. Cioè, quello che si chiede è un lavoro che possa essere più aderente alla realtà possibile è legato, appunto, a delle contingenze esatto. E secondo lei quanto è importante rendere attivamente, rendere attivo un bambino a livello di cittadinanza sin dai primi anni, dalle prime scuole? Beh, diciamo che secondo me la cosa importante è questa, riuscire a capire quelli che sono i meccanismi, le difficoltà, i problemi che costituiscono una scelta di un certo tipo, una scelta pubblica. Perché molto spesso si è portati ad una forma di, come si può dire, è qualunquismo, tra virgolette, per cui tutto quello che viene fatto dai politici, dagli amministratori è un qualche cosa di sbagliato o comunque che non tiene conto invece delle reali necessità dei cittadini. Riuscire a capire dal di dentro che a volte alcune cose nascono anche da delle difficoltà oggettive, da dei problemi, anche dal fatto che bisogna tenere conto di tutte le esigenze e quindi avere una visione complessiva dei problemi, non particolare, particolareggiata, è sicuramente un grande senso di consapevolezza. È questo che si vuole un po' riuscire a realizzare, ma non solo. Si vuole riuscire a realizzare anche il fatto di dare voce ai bambini, di dare loro voce cercando di farli esprimere su quelle che sono le loro esigenze, su come vedono la loro città, che cosa manca nella loro città per poter trovare, perché possano trovare spazio i loro bisogni. Però facendo sempre da una parte un passo in avanti nei desideri. Però questi desideri devono anche essere, riuscire ad essere delle cose realizzabili e concretamente utili non solo alle proprie esigenze, ma anche agli altri, alla comunità. Questi sono, secondo noi, dei concetti importanti da poter. Abbiamo visto nella nostra esperienza, che è molto lunga su queste cose, che i bambini messi al lavoro sanno lavorare bene in termini anche di tener conto delle altre esigenze, non solo delle loro. Se ben stimolati, abbiamo visto che riescono ad avere questa visione complessiva delle cose. Quindi se si sentono anche responsabilizzati, reagiscono bene? Sì, infatti. Cioè se si ha un'azione educativa di responsabilizzazione di quello che si cerca di fare, i bambini riescono, i bambini e i ragazzi riescono ad uscire dalla loro situazione contingente e a lavorare per la città, veramente. Anche se il territorio è un territorio molto, il nostro è molto diversificato. Perché se noi prendiamo la realtà di Venezia, non è la realtà della terraferma. All'interno della terraferma comunque ci sono delle differenze molto sostanziali. Però il problema è anche quello di farli uscire, cioè di farli partire dalla loro, come posso dire, situazione contingente, dal loro territorio. Però riuscire ad avere anche una visione che vada e riesca ad abbracciare la realtà di tutto il Comune di Venezia con le sue caratteristiche contingenti e particolari. Quindi formare i piccoli cittadini di domani che abbiano una visione più ampia dei cittadini di oggi. Esatto. E anche delle difficoltà che in fondo mettere insieme tanti pensieri, tante persone diverse, le difficoltà nel rendere un'idea operativa, anche renderli consapevoli di questo ci sembra importante. Ecco. La ringraziamo e le auguriamo un buon lavoro. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.